ben tornati nel mio canale youtube oggi vi presento il terzo ordine della campagna 16 di novembre prima cosa abbiamo questa bellissima shopper della linea motonella che realizza tantissimi dei nostri prodotti di abbigliamento poi abbiamo i bagnoschiuma natalizi abbiamo due palline alla vaniglia fico due bagnoschiuma alla cannella arancia e mirtillo rosso anzi ne abbiamo tre un bagnoschiuma alla lampone cassì e una pallina alla torta di mele questi bagnoschiuma sono ancora in offerta a 5 euro e 90 la coppia abbinabili come preferite potete prenderli uguali oppure diversi sono molto carini come regalo di natale per le maestre per i colleghi eccetera perché sono versatili possono essere usati da chiunque poi abbiamo il nostro set soft mask composto da profumo e deodorante roll on è un set di un profumo molto falcato con la base di rosa poi abbiamo il profumo pur blanca abbinato alla acqua profumata e al deodorante roll on anche qua sono i nostri best seller molto dedicato al floreale poi abbiamo una lunga serie di bijou di cui sono ben tre confezioni della collana ballerina e due confezioni del portachiavi ballerina della linea poi abbiamo il portafoglio da uomo abbiamo quattro diodoranti da uomo due next protection e due fresh abbiamo il set composto da profumo e gel doccia del profumo tutti 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 i moment da uomo con compresa la confezione regalo abbiamo due glitter on in cotonella maxi quindi sono della linea cotonella in cotone purity ultralight abbiamo una decima in colore nudo e una nonna in colore nero quindi di molte taglie molto grandi poi abbiamo due duo metal matte per gli occhi della linea del colore peach quindi in tonalità pesca un duo labbra metal matt in tonalità rosso abbiamo il rossetto ruby gris quindi rossetto metallizzato della linea ultra shimmer il profumo da borsetta del profumo hallways tta verona e il profumo in formato standard del faraway infinity è uno dei tanti tipi del nostro best seller classico faraway più ovviamente una serie di confezioni regalo abbinate ai set che sono contenuti in questo ordine anche per questo ordine è tutto potete ordinare i vostri regali di natale entro il 14 di dicembre con consegna consulente oppure entro il 15 di dicembre dal mio negozio online trovate tutti i contatti per poter ordinare o per diventare presentatrici o per qualsiasi cosa di interesse di quello che faccio nei miei informazioni sotto il video vi auguro una buona serata grazie